L'impegno quotidiano dell'Arma dei Carabinieri, volto a prevenire e contrastare i reati in materia ambientale, che si avvale anche dei reparti specializzati come il NIL, Nucleo Operativo Ecologico, i Carabinieri Forestali, la cui prerogativa risulta la salvaguardia del patrimonio naturalistico, ma anche delle stazioni carabinieri che rimangono sempre il primo presidio sul territorio, risulta molto spesso compromesso dai comportamenti incivili di molti, che vanificano gli atteggiamenti di tanti altri cittadini virtuosi e rispettosi delle norme in materia. In tale contesto, a San Ferdinando, nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno sequestrato una discarica abusiva e denunciato il proprietario sessantenne del luogo per la realizzazione e gestione della stessa, senza autorizzazione. In particolare, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i militari, nel transitare in una via in prossimità del lungomare del centro cittadino, hanno notato un deposito incontrollato di rifiuti. Da una verifica più approfondita dell'aria, gli operanti hanno constatato nel dettaglio la presenza di molti elettrodomestici ingombranti accatastati e a tutti gli effetti considerati rifiuti speciali, per il cui smaltimento è prevista un'apposita procedura in accordo con la locale amministrazione comunale. Una volta scoperta la discarica abusiva, i Carabinieri della locale stazione hanno subito dopo sequestrato l'aria, affidandone alla custodia giudiziale il proprietario del sito, pertanto poi denunciato in stato di libertà.